Veniamo al primo caso studio, nello specifico lo schizzo master. Ecco, con questo caso studio voglio mostrarvi come sfruttare correttamente lo schizzo master sia per realizzare le parti che l'assieme del nostro progetto. Qual è qua il focus? Il focus è avendo la certezza che tutte le modifiche vengono fatte in un solo file, ovvero il master. Il master è uno. E poi queste modifiche si vanno a propagare in tutti i file di progetto. Qua insisto, perché negli anni mi sono trovato spesso in situazioni dove in azienda mi hanno detto no, no, ma qui c'è Luca, c'è Paolo, c'è Marco che cura l'intero progetto. Nel senso, ogni progettista ha il suo progetto, non è che viene suddiviso in 3, 4, 5 progettisti. Le cose non cambiano. Anche se siete soltanto voi a curare l'intero progetto del layout qui rappresentato, dovete comunque seguire questo approccio. Ok? Il master anche per voi deve essere soltanto uno. E poi questo propaga le modifiche a tutto il resto. Vediamo un po', passo in Solidworks e vediamo di affrontare questo primo caso studio. Io vado ad aprirmi il file. Allora, vediamo un po', in questo caso parto dal primo caso studio. Eccolo qua. Tra l'altro lo vado anche ad aprire, così vi mostro subito anche le quote. Ecco, ve lo metto proprio in visualizzazione ottimizzata. Questo è il layout di un impianto di travaso. E' una parte di impianto all'interno di una cantina, di un'azienda vitivinicola che produce vino. Come potete vedere abbiamo due serbatoi. Qui infatti ci sono delle note. Serbatoi diametro 2000 a 4 vie. Quindi uno a destra, l'altro a sinistra. Che tra l'altro vi dico, per me questi due serbatoi sono parti commerciali. Quindi ho queste, non le andrò a modellare, ma le andrò ad inserire direttamente nell'assieme. E poi ho, guardate, una passerella sopraelevata ad un'altezza di un metro e mezzo dal pavimento. E poi ho un supporto pompe, che mi servono appunto per gestire questi travasi. Allora, di questo layout io mi devo occupare della progettazione della passerella e del supporto pompe. Perché poi le devo anche realizzare. Quindi lo scopo di questo layout non è solo quello di avere le idee chiare su cosa dovrà esserci in quest'area dell'impianto. Perché effettivamente, vedete, io vado a rappresentare in pianta tutto quello che deve esserci. C'è quindi come disporlo anche all'interno di quest'area. Ma lo scopo è anche quello di guidare la modellazione delle parti di carpenteria, perché io mi devo occupare di quelle di carpenteria, nella posizione esatta. E fare in modo di ancorarle all'entità di schizzo. Cosicché, se è necessaria una modifica, in automatico si aggiornano le componenti. E dov'è che vado a fare questa modifica? La faccio nel master layout, la faccio qui dentro. Quindi, da questo layout, devo tirar fuori le due parti di carpenteria, realizzare i disegni, perché poi, giustamente, queste parti, la carpenteria della passerella, la carpenteria del supporto pompe, io le vado a realizzare in un file distinto di parte. Questo file distinto di parte, lo utilizzerò per realizzare anche i disegni. E poi, devo realizzare anche l'assieme completo con tutte le parti commerciali, perché poi, anche lì, vado a fare il disegno, con la distinta, la bollatura, e tutto quello che tendenzialmente produciamo come documentazione tecnica. Ebbene... 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 Ebbene...